Allora è quella la missione del boss Ok, ok Ci siamo già, stiamo già iniziando così senza dire nulla Vediamo Dom Cosa? Ma siamo matti? Sì, è un salto ad ostacoli per ora E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef E che ci giochiamo a Rodeo? Stampid Nei commenti siete totalmente impazieti per questo gioco Ce l'avete scritto su Facebook, su Instagram, ovunque E quindi ovviamente vi portiamo subito, anzi non proprio subito Un secondo episodio con tantissime cose nuove da farvi vedere Allora, prima di tutto, tra il primo episodio e il secondo episodio Non so quanto ci abbiamo nerdato Allora, io alzo la mano, sono colpevole, sono nerdato come se non ci fosse un domani Come se non avessi altri obiettivi nella vita che completare lo zoo sul Rodeo Davvero sono nerdato in una maniera incredibile E anche tu perché guarda tutti gli animali No, 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 poi li vedremo con calma Allora, quindi oggi vi facciamo vedere tutti gli animali che abbiamo preso tra il primo e il secondo episodio Vi facciamo vedere il livello natalizio che è stato aggiunto Perché ovviamente siamo vicini a Natale e anche in questo gioco l'hanno voluto mettere Certo Poi abbiamo la missione boss che ci siamo proprio preparati ma non sappiamo cosa sarà E siamo anche pronti, guardate un pochettino Se guardiamo la mappa sono anche pronto a spostarmi alla seconda zona Che dovrebbe essere la giungla Sì, c'è scritto prossima formata giungla 1 Vedremo anche quello perché siamo totalmente pronti Dobbiamo giusto potenziare due animali ma abbiamo totalmente soldi Quindi un sacco di novità, un sacco di cose da vedere Prima di tutto ti faccio vedere tutto quello che ho preso Sì, sì, sto guardando perché poi ognuno gioca per i fatti suoi Non è che sappiamo benissimo cosa uno e che cosa l'altro Questo grazie ai vostri commenti l'abbiamo preso Sì, l'ho preso anch'io, l'ho preso anch'io Perché bisogna fare 800 metri stando tutto il tempo sullo stesso bufalo E di conseguenza è parecchio difficile perché impazzisce Dovete riuscire a resistere Dopo 800 metri compare e lo si può catturare Ed è davvero bellissimo Si chiama Gemma Non l'avrei mai trovato, mai trovato Neanche io, i consolini sono stati bravissimi Poi qua abbiamo preso, vabbè questa d'arcobaleno Che è bellina ma niente di che secondo me Però il gioiello Cebra abbiamo le stesse Tra le cebre c'è Gregorio Sì, ce l'ho anch'io Bellissimo Gregorio la zebra punk No Sì Ma è il pagliaccio che piange Leone piagnone si chiama Ma poverino, è tristissimo E guarda il nome? È tristissimo Ma povero Ce lo prendi in giro Tu lo catturi dal nome del genere E continua a piangere Ce lo prendi in giro Ma povera Io i leoni non ce li ho Non ce li ho La so Ma ero bellissimi Ho pensato Magari gli do un nome allegro E torna allegro E poi faceva il clown al circo E ancora non riesce a togliersi l'imbarazzo di Dosto Ha ragione Non commento Ha qualcosa da dire? Non commento Non voglio dire nulla Questo Ma non era il tuo preferito? Questo visto zitta Non avevi detto che era la cosa più bella del mondo? Lo so Lo è infatti Lo è No io questo non l'ho mai neanche visto Proviamo un pochettino il livello natalizio Poi missione boss E poi nuova zona Dobbiamo fare un sacco di roba oggi Quindi ci dobbiamo muovere Comunque per lo zoo sono davvero soddisfatto Inizia ad essere carino Io in effetti in questi giorni l'ho un po' trascurato Ma davvero tu hai un sacco di animali Sto pensando a come tenermi per giocare Esatto Allora così Così dovrebbe andar bene Con cosa parto? Con un mammut Va bene Con un mammut Allora praticamente in questo livello A parte che è bellissimo il livello natalizio Bisogna raccogliere invece che le monette I pacchi regalo Ogni tot pacchi regalo Uh che rischio Che acchiappo Spiego io Ogni tot pacchi regalo riceveremo un premio Volevo dire anche Che quelle renne con praticamente tutta la carrozzina dei regali Ovviamente se riesci a prenderle e domarle Ti danno regali extra Quindi è una figata Come vedete noi dobbiamo prendere 45 Per il prossimo pacchetto da aprire Esatto E vedremo cosa troviamo Vedremo Ho grosse difficoltà Vedete tutti i pacchetti che ci ho dato Ma me ne ha dato solo tre Ho avuto abbastanza sfiga Se devo essere sincero Eh vabbè vabbè piano adesso te li prendi Ho avuto parecchie sfiga Comunque io vorrei catturare le renne Comunque è quello che volevo dire Ecco È quello che volevo dire Sono troppo belle Perché non possiamo catturarle Guarda questa roba è da protesta Sì non è giusto Ok ti do dei vestitini carini Però le renne Fare la sezione renne Cioè ma ci pensi sarebbe fantastico Ma almeno per Natale Te la potevano far fare Invece no Invece no Niente renne Però i regali danno cose davvero carine Sì E infatti voglio arrivare almeno al 45 Per far vedere il secondo regalo Che tu hai già Sì infatti non lo dico Non lo dico Hai visto che sono caduto di sotto? Sì Hai preso un burrone Non pensavo si potesse cadere Neanche io sinceramente appena scoperto Che si può cadere dalla mappa Ma che tristezza Una cosa assurda Fatto Fammi vedere un pochettino Mamma Natale Mamma Natale è bellissima E quello dopo Poi è il costume da Babbo Natale Che tu hai già anche quello? Sì Mamma mia Ce ne è andato un sacco Mi piacciono Mi piacciono i regali di Natale E lo sappiamo Io ovviamente mi sono tenuto Quello da Mamma Natale Perché bellina La gondellina fa troppo ridere Ti ci vedo bene infatti Però molto bellino Anche quello da Babbo Natale Ti consiglio di fartelo Comunque Adesso andiamo a fare la missione del boss Dovrei aver lasciato tutto In modo tale Che con una missione Arriviamo a quella Della missione del boss Io sinceramente non so Se bisogna attivarla Non so cosa dobbiamo fare Se Tom Allora è quella La missione del boss Ok Ok Ci siamo già Stiamo già iniziando così Senza dire nulla Vediamo Tom Cosa? Oh Ma siamo matti? Sì E' un salto di ostacoli per ora Ma siamo matti? Ok Ma che figata Ma che figata è? Devo stare molto Le sono nascoste Ma quindi sarà Una giraffa boss? Dannazione Mi viene panico Ti devi preparare Allora concentrati Chiamami la direzione Della giraffa No è impossibile Vai Mi puoi chiedere queste cose Call me Dov'è? A destra La cambia sempre Sì la cambia sempre Ma poi la vedi all'ultimo Centro Facile facile Due Ok Sinistra Ce la faccio? Vai Tre E siamo già più avanti di sempre Sinistra Ma no Ma questo no Non può succedere No L'ho vista? Era nascostissimo Quattro Ma è da matti Andiamo Cinque Dai E ora c'è il boss Dici Si guarda Dici No 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 Sì È lì Prendilo Ok Ma è un uffo È fantastico Silenzio Silenzio Tutti zitti Tutti zitti No non ci credo Che tu fai una cosa del genere E sbatti Mi ha un po' scattato Mi ha notato Ok non è la colpa mia Comunque è un cavolfiore Fa schifo No uffg Secondo me è tipo un uffo Non è un cavolfiore Perché adesso ci sono le giraffe in giro L'abbiamo totalmente flipato Ok È la volta buona me lo sento Se non mi scatta Se non mi scatta è la volta buona Dai sì Dai Sì sì Dai Oh mamma mia è pieno di gente Ragazzi Oh mamma mia Levatevi di torno No 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 È andata È andata Ufg Oh mamma mia è troppo carina Poi con te vestito da pesce siete abbinati È fantastico Ma è un cavolfiore Ma No è una specie di uffo Elmo Perfetto Elmo ci sta benissimo Io devo dirti una cosa Non ti piace Personalmente non mi piace A me piace Eh vabbè ma diventa una nave gigante Altri quattro spazi per animali Quindi probabilmente quattro specie nuove Sono pronto Bellissimo Sono pronto Allora Sono super emozionata Andiamo di elefante dai Tanto secondo me Proprio appena arriviamo Dobbiamo già prendere subito un nuovo animale Quindi è inutile decidere con cosa da partire Vediamo Vediamo anche l'ambientazione come sarà Sì Sarà una figata Sarà verde Una giungla Dici È in effetti Ho già No vabbè È un cinghiale No vabbè ma non hai capito Quello è un cocodrillo E ti mangia Oh mio Dio è fantastico Ma scherzi No è la cosa più bella sto gioco È la cosa più bella del mondo Allora Ok qua c'è l'acqua Che mi fa anche Cosa fa il cinghiale? Ok fa il pazzo Cinghiale selvatico Eh che carino Cinghiale selvatico Tu ti chiamerai No Neanche Sebastiana Può andar bene Non sono soddisfatto del tutto Ma tanto Sei un cinghiale selvatico Oh papà Uh Dannati cocodrilli Ma è bellissimo A me fanno paura i cocodrilli Li odio Ok Gorilla occidentale Hai notato che non è impazzito? Sì ho notato Quindi sicuramente il gorilla ti butta giù Regina ci sta tutto Vai perfetto Vediamo Voglio la conferma che gli scimpanzetti buttano via Vediamo Eh sì prende e ti lancia proprio di forza Di forza Bellissimo Bellissimo Ok nuovo record Ah perché fai il record anche in base alla zona Che figo Ah beh sì Figo figo Uh prendi il cocodrillo stavolta È mai lentissimo Ma si pappa gli animali secondo te? Non lo so perché leoni mangiano Sì 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 Devo mangiare Ti prego Scusami Se non mangio a te Come il leone Guarda con te gonfio Se non mangi gli altri animali Mangi a te sì Siccome sei vestito da pesce Ti avrà preso per pesce Quindi ha detto Buonissimo Magari ho migliorato anche il sapore Vabbè Quindi abbiamo preso Gorilla Cinghiale Adesso ci serve il cocodrillo Il cocodrillo assolutamente Il cocodrillo che mi fai Niam Niam Mangia tutto quello che vedi Niam Ma così gli viene mal di pancia però Ah non mi sembra È felicissimo Stiamo mangiando qualche cinghiale di troppo Alligatore È andata E vabbè Vabbè ma quanto sei bello Ma quanto sei bello Maurizio Non lo vorresti un cocodrillo da chiamare Maurizio Mai avrei potuto dare un nome più bello di Maurizio Assolutamente no Cioè senza dubbio Andiamo sullo scimpanze che è molto figo Perché va davvero veloce Sì va super veloce Poi ti butta giù però è davvero davvero veloce Ne voglio uno raro Ne voglio uno raro per festeggiare l'inizio della giungla Non andiamo d'accordo mamma mia Il cinghiale Che cos'è Uh 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 Che cos'è Un cinghiale verde È un cinghiale impazzito Stiamo calmi Ti prego No 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 Come hai fatto dovevi andare dall'altra parte Che ero più largo Ma perché Scusa Fai queste cose Scusa No era bello A me piace A te piace I cinghiali mi fanno ridere Perché sono cattivissimi Ok Sono cattivi Hai mai avuto a che fare con un cinghiale No Io sì Perché Perché praticamente adesso te lo racconto All'elementari Avevo fatto una gita Con la mia Con la mia classe Quindi è normale In un monte della Sardegna Adesso mi sfugge il nome E praticamente Nell'area picnic C'erano i cinghiali selvaggi E praticamente A un certo punto No ascoltami Perché questa è la parte più bella Ok C'era la nostra classe E la sezione opposta Certo A un certo punto vedi questo cinghiale Che viene verso la nostra classe Con lo zaino in bocca Di uno della sezione opposta Se l'ha rubato tutto il cibo Con lo zainetto E tutti i bambini Che cercavano di inseguirlo E questo che correva Con lo zaino E tutto il pranzo Di quel povero bambino Quindi Per quello mi fanno ridere i cinghiali No Hai visto? La tua storia mi ha distratto C'era un cocodrillo Tutto colorato Un cinghiale con la cresta E io ascoltavo a te Che parlavi di un cinghiale Che ruba merende Sì Ha rubato il pranzo Cioè ti sembra Ma è Guarda Davvero Vai muoviti Hai rubato minuti importanti Dei consolini Tu invece Se saranno tutti divertiti Lo so già Assolutamente Nuovo record 2000 No ma è sempre più stretto Ma qua anche se trovo un animale È sbatto subito È impossibile Sinceramente È troppo stretto È troppo complicato 2003 Ancora nulla Sei serio? Ma no dai Sei serio? No guarda Questo è un complotto Contro di noi Assoluto 2600 Ma poi l'hai visto Che lì c'è il cocodrillo Eh sì Ma come ci passi? Cioè sei obbligata a saltare Quindi se lì stai conquistando un animale Lo perdi e basta Ce la posso fare Vai Ce la posso fare Ce la facciamo Ci siamo tipo 20 minuti ragazzi Andata Cinghiale indiano Bellissimo Bellissimo Ci siamo una vita Siamo stanchissimi Ma ce l'abbiamo fatta Non demordiamo Mi riusciamo a catturarli Bellissimo Guarda lo screenshot così Che cosa bellissima Perfetto Perfetto No Rachele era fantastico Maura Maura Sì Dai Va bene Andiamo Cinghiale indiano Oh mamma mia Guarda come pazzo Esaurito È pazzissimo Io voglio provare Due sole volte Due soli tentativi Vediamo se riesco a prendere Anche il cocodrillo Ok Ci sto Ci sto Così chiudiamo proprio in bellezza La zebra pazza va Dritta per la sua strada Con un sacco di soldi Con un sacco di soldi Non sbatte Ok No vabbè Vabbè C'è una mandria Eccolo Eccolo Oh mio dio Mangia Mangia Non ci credo che ce la stiamo facendo Mangia Attenzione Mangia Cinghiali per pranzo Cinghiali per cena Cinghiali È bellissimo Alliga rana Infatti sto dicendo È simile a una rana Lo vedi che ha le zampe da rana È bellissimo È fantastico È fantastico È bellissimo Tiberio Perfetto Tiberio Sei nato per essere un Tiberio Allora saltiamo Su una roccia Non ce ne frega più niente Li abbiamo presi tutti e due Felicissimi Meglio di così Non poteva andare Facciamo Un recap Ok Due cinghiali Uno scimpanzè Due cocodrilli E la giraffa rara Giraffa boss Giraffa boss Sei nuove creature In un solo video E guarda infatti Che bello Guarda lì come escono tutti Guardate Due specie Che belle Guardate C'è per il pozzo La pozzanghera d'acqua Per il cocodrillo È bellissima Ma la scimmia avrà un albero Sarebbe bello Non è la più polla idea Non gliel'è ancora costruito Quindi non so come sarà E c'è uno spazio vuoto Sì E non sappiamo per chi è Comunque ragazzi Ci premiamo così Ovviamente in base a come andrà Anche questo secondo video Decideremo se continuare Ovviamente nel caso Faremo un po' di missioni Guarda Nel caso se continuiamo Di nuovo con la missione boss Teniamo questa cosa Come ritmo Sì sì Magari nuova zona pure Prova a dirlo No Nuova zona ancora Troppo Perché Ti sei allargato Perché Hai esagerato Hai esagerato Hai la faccia e ti lascio da solo Ma non ha senso Perché abbiamo fatto vedere Troppo poco della nuova zona Capito Ma secondo me No 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 Hai esagerato Chiedi scusa No Chiedi scusa Ho ragione io Chiedi scusa Nuova zona hashtag Nuova zona prossimo video Dai Se fai partire Montiamo gli hashtag E poi vediamo chi vince Se fai partire Nuova zona prossimo video Se fai partire l'hashtag Ho ragione Non commentano con altro E poi non capiamo neanche se vi piace il video Perché tutti Allora mettete l'hashtag E poi ci dite anche se vi è piaciuto il video Quindi Hashtag più Bel video Esatto Così Perfetto Barra Voglio un po' di pizza E forse anche una caramella Possono anche dirci se hanno fame Certo Ci fermiamo così Bene che ci riesco così Se ci stanno Sciendici un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi in forno Per vedere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao